Tg Vicenza ben trovati questa è una selezione di alcune tra le principali notizie della settimana raccolte per voi dalla redazione c'era una volta il partito democratico c'era c'è ma non ci sarà più non per quel che è oggi è il segretario Nicola Zingaretti ad annunciare la rifondazione i tempi beh quel che resta del giorno rimangono le elezioni in Emilia Romagna poi si cambia una previsione che noi di Rete Veneta avevamo anticipato alcune settimane fa quando Giacomo Possamai aveva chiesto al PD un cambiamento l'apertura ad altre forze ad altre anime della sinistra sì era l'idea che abbiamo lanciato ancora appunto da da Rete Veneta qualche settimana fa e cioè il fatto che il PD tanto più in Veneto non sia in grado di rappresentare fino in fondo oggi la società il nostro territorio e quindi il bisogno di aprire la lista alle forze civiche ad altri movimenti politici penso ai movimenti ambientalisti i movimenti progressisti cioè il fatto di fare una lista aperta il fatto che il PD si apre non si arrocchi è fondamentale quindi adesso che lo dice anche Zingaretti credo che a maggior ragione in Veneto dobbiamo lanciare questo patto per il Veneto cioè una lista come era insieme per il Veneto di Cacciari aperta e non un partito chiuso che risponde diciamo così alle logiche di Roma oggi Giacomo Possamai rilancia la sfida al suo partito un patto per il Veneto in vista della corsa per la poltrona di presidente della regione Veneto di sicuro noi adesso non abbiamo più scuse se anche Zingaretti in chiave nazionale dice il PD si apra a maggior ragione in Veneto il PD si deve aprire non abbiamo scuse una svolta quella del partito democratico che ha il suo concepimento politico nelle piazze vediamo questi ultimi mesi che dalle sardine a tante altre realtà c'è un forte movimento di piazza ci sono tanti movimenti che chiedono al centro-sinistra di cambiare quindi questa diciamo così operazione novità lanciata da Zingaretti ha senso se noi per esempio le sardine per fare un esempio concreto ci apriamo cioè consentiamo alle sardine di dire venite invadeteci cambiate questo partito da dentro cambiate da dentro il nuovo partito del centro-sinistra insomma il nuovo PD sta per nascere e oggi Giacomo Possamai candida il Veneto a essere laboratorio di questa mutazione genetica del centro-sinistra noi ci troviamo sotto al cavalca ferrovia ferretti lato via la Verona e siamo qua a segnalare il degrado dovuto allo spaccio alla prostituzione e al bivacco il rappresentante del locale comitato dei residenti ci guida nella parte peggiore del sotto cavalca via la zona più nascosta alla vista è oggi una terra di nessuno dove regna degrado e anarchia stiamo barcando uno dei due transenne nella proprietà comunale dove si può vedere alberi potati anni fa lasciati lì e poi tutto quanto la sporcizia scarpe bottiglie preservativi siringhe si può vedere anche entrando verso questa zona qua e proprio mentre eravamo a documentare il degrado ci siamo imbattuti in alcuni dei frequentatori legati al mondo della droga giovani che nonostante fosse pieno giorno incuranti proseguono nelle loro attività ciò che noi ci fa più rabbia è questo che questa zona qua pur sapendo com'è fino ad oggi nessuno ha mai fatto nulla ecco che allora oggi il sindaco Rucco l'assessore Ieradi e il consigliere Naclerio hanno voluto recarsi qui per accertarsi di persona sullo stato di degrado segnalato dai residenti il problema era noto all'amministrazione però non c'era la cognizione di quanto gravità di quanto fosse grave il 20 di dicembre abbiamo avuto la segnalazione con il comitato ho provveduto a cercare una soluzione immediatamente e questa è il primo frutto pronte subito le contromisure un impegno che l'assessore si incarica di eseguire anticipando i lavori di restauro del cavalcavia programmati per giugno andremo a chiudere completamente con delle reti da cantiere sia l'accesso pedonale da un lato che dall'altro completamente alzando una reti da due metri e mezzo che impedisce qualsiasi tipo di accesso sia dalla ferrovia che dalla strada questa non è la soluzione di tutti i problemi però intanto la misura tampone che ci permetterà di trovare la soluzione definitiva quando andremo ad effettuare i lavori di restauro delle pile e delle ponte parliamo di date entro quando farete questo intervento e quali invece i prossimi interventi noi consideriamo di riuscire a intervenire e chiudere tutto prima dei 30 giorni siamo soddisfatti di questo incontro e ringraziamo sempre il sindaco Rucco l'assessore Ierardi e il consigliere Nicolò Naclerio che si rendono sempre disponibili per sistemare le cose grazie il carnevale di vicenza sono finite le feste natalizie ed è arrivato il momento di parlare di carnevale assessore silvio giovine con lei l'anno scorso noi di rete veneta abbiamo lanciato la proposta di reintrodurre una tradizione vicentina quella dei carri beh l'amministrazione ha mantenuto la promessa con nostra grande gioia ed è arrivato intanto un carro ma era solo un assaggio quest'anno come d'accordo come promesso a rete veneta e ai nostri telespettatori farete meglio assolutamente sì l'anno scorso abbiamo rilanciato quest'evento che mancava in città da tantissimo tempo è stato un successo incredibile una grande soddisfazione vedere la piazza piena di famiglie e bambini quest'anno vogliamo rendere ancora più ambizioso il programma e stiamo lavorando già con l'amministrazione di Malo e con la Proloco che si occupa di strutturare questi meravigliosi carri oh bene queste sono belle notizie però assessore si sbottoni fa freddo ma si sbottoni quanti carri arriveranno? non possiamo dare un numero preciso ancora il programma in via di definizione però possiamo dire che saranno di più io ringrazio anche rete veneta per questo stimolo allora le diamo un altro stimolo assessore noi di rete veneta abbiamo lanciato l'operazione riprendiamoci campo marzio come sanno i nostri telespettatori con riferimento proprio all'origine del parco il campo di marte quando vicenza era un orgoglioso municipio romano ecco una festa a campo marzo una festa dedicata al parco della città per riconquistarlo perché non portarci carri? diciamo che vorrebbe dire rendere ancora più ambizioso il programma già estremamente ricco che stiamo lavorando per il carnevale è una bella idea ci possiamo assolutamente lavorare guardi suonano anche le campane abbiamo la benedizione io direi che per il momento è tutto ci risentiamo e per quanto ci riguarda la questione non finisce qui ma continua suonano le campane tamponamenti incidenti frontali fuoriuscite autonome investimenti di pedoni o di ciclisti l'incidentalità sulle strade vicentini diventa oggetto di un osservatorio voluto dal prefetto di vicenza signoriello un osservatorio che vede seduti al tavolo alla provincia e i comuni come popolazione superiore ai 15.000 abitanti e che in base agli elementi in possesso e con i dati aggiornati al 2019 è pronto a tarare i possibili interventi e azioni se informazione e formazione combinata ad attività di prevenzione e vigilanza sono il filo rugio per incidere su condotti di guida ed eventuali fattori esterni causa o con causa di incidenti stradali l'osservatorio ha individuato anche altri target su cui lavorare in particolare l'esigenza di una puntuale individuazione dei tratti stradali maggiormente esposti all'incidentalità a parlare sono i freddi numeri che danno immediatamente l'idea della situazione degli ultimi cinque anni dal 2014 al 2018 nel vicentino in aumento il numero complessivo degli incidenti più 0,9 per cento come il numero dei morti più 6 per cento un incremento 35 per cento in più delle vittime nella fascia anagrafica oltre i 65 anni del 14,2 per cento quelle tra i 30 e 54 anni e addirittura dell'80 per cento in quelle tra i 55 e i 64 anni l'unico dato in controtendenza nel quinquennio è quello relativo alle vittime tra i 18 e 29 anni che è drasticamente in calo meno 75 per cento ancora elevato seppur in lieve calo nel vicentino il numero delle persone ferite a seguito di incidenti stradali oltre 3.000 dai numeri ancora le azioni da mettere in campo e così ecco l'occhio di riguardo per quelle zone dove vi è una concentrazione di locali di intrattenimento nelle ore notturne dove le condotte di guida a rischio possono essere elevate da qui la necessità evidenziata dal prefetto di mettere a punto percorsi strategici organici condivise con le amministrazioni locali si parla di educazione alla guida sicura ma anche di repressione di comportamenti illeciti le amministrazioni locali sono chiamate a collaborare in tema di messa in sicurezza dell'ambiente stradale ovvero miglioramento della segnaletica e dell'illuminazione degli attraversamenti dei percorsi pedonali la diffusione di dissuasori di velocità ed una campagna informativa salvaguardia di quelle fasce di età particolarmente vulnerabili no smog vietato produrre pm10 ce n'è già troppo nella pianura padana continua l'allarme polveri sottili e a vicenza la mancanza di pioggia e vento complica la situazione l'allerta è sempre più rossa e restano in vigore le limitazioni alla circolazione del traffico fino ai veicoli commerciali euro 4 diesel ma a differenza di altre città del nord Italia a vicenza gli euro 5 non finiscono nel mirino come è sicura l'assessore all'ambiente il livello rosso è confermato dalle analisi di questa mattina purtroppo beh di euro 5 io non ho mai parlato però ci tengo a dirlo mai ho pensato di fare una misura di questo tipo l'hanno fatto altre città secondo me anche con qualche problema normativo ma ognuno si gestisce le scelte che assume noi assolutamente non lo faremo palazzo trissino si ferma qui non andrà oltre non colpirà gli euro 5 la battaglia per l'ambiente come abbiamo sottolineato più volte è sacrosanta ma non può ricadere sui cittadini che hanno bisogno di muoversi per vivere per lavorare in particolare sulle classi meno abbienti che fanno fatica a cambiare l'auto con disinvoltura e su questo è d'accordo anche il DEM Giacomo Possamai sono d'accordo non bastano i blocchi del traffico non servono ad abbattere le polveri sottili non bastano ad abbattere le polveri sottili tre proposte secondo me sono fondamentali uno efficienza energetica degli edifici a partire dalle case ATER per cui un fondo per migliorare l'efficienza delle case due investimenti sul trasporto elettrico nella mobilità pubblica non possiamo vedere bus che girano nelle nostre città che hanno vent'anni che inquinano come tantissime automobili tre fondi per sostituire caldaie e macchine per chi non se lo può permettere perché c'è gente che non può pensare di acquistare una macchina da 20-25 mila euro che inquini meno di quella che è oggi Insomma, Stato, Regioni, Comuni devono fare la loro parte a Vicenza si punta su misure strutturali ma utili anche ai cittadini come l'idea di prolungare la durata del biglietto dei mezzi pubblici Invito i cittadini ad approfittarne del prolungamento della durata del biglietto che è stata data grazie alla provincia di Vicenza, SVT sia nei giorni di allerta arancione che nei giorni di allerta rossa l'idea è quella di rendere questa una misura il più strutturale possibile magari coordinata anche con altri provvedimenti perché no con qualche altro parcheggio di interscambio di cui la città ha bisogno e poi vanno soprattutto controllate le caldaie perché ormai c'è la consapevolezza evidente e scientifica che il vero problema è il riscaldamento Fratelli d'Italia, nome che evoca famiglia ma oggi in casa centrodestra a Vicenza volano i piatti e di mezzo ci sono ancora una volta loro Fratelli d'Italia che qualche mese fa hanno portato via in una sola giornata la lista dell'amico sindaco tre consiglieri comunali Andrea Berengo, Nicolò Naclerio e Roberto D'Amore la giunta aveva tremato la maggioranza aveva vacillato Fratelli d'Italia se ne erano andati di casa avevano minacciato di fare opposizione per poi tornare sui propri passi introducendo in giunta un proprio assessore Mattia Ierardi è stato un caso, un'eccezione nemmeno per sogno, oggi i Fratelli d'Italia acquisiscono altri due consiglieri comunali sempre da un partito amico, questa volta dalla Lega il capogruppo del carroccio Andrea Pellizzari e Patrizia Barbieri questo tipo di spostamenti poi a volte li capisco anche poco Francesco Rucco non capisce, non sorride forse si chiede se Fratelli d'Italia con i due nuovi acquisti in consiglio comunale vorranno un altro assessore ma la vera questione sono le tensioni nella maggioranza sì perché la Lega come può prendere lo scippo subito? ovviamente male non è possibile avere un alleato che invece di pensare a risolvere i problemi in questo caso di una città pensa a fare delle conferenze stampa solamente per annunciare di aver portato via un consigliere da una lista piuttosto che da un'altra penso che da un partito di maggioranza, un partito alleato questi colpi bassi siano inaccettabili direi e per quanto riguarda l'ex ormai capogruppo della Lega mi dispiace molto perché gli avevamo dato fiducia nonostante lui arrivasse da un altro partito da Forza Italia diversi anni fa fiducia rinnovata candidandolo con la Lega per queste elezioni amministrative fiducia rinnovata nuovamente dandogli il ruolo di capogruppo ho fiducia tradita perché mi è stato comunicato stamattina tramite Whatsapp e successivamente tramite mail non una telefonata, non una parola di persona e mi dispiace per questo atteggiamento che trovo scorretto nei miei confronti nei confronti del partito ma soprattutto nei confronti degli elettori della Lega Patrizia Berbieri è stata eletta in Lucco Sindaco ma si era iscritta di recente alla Lega non più tardi, credo di tre mesi fa e adesso è passata invece con Fratelli d'Italia? questo deve chiederlo lei c'è poco da chiedere, basta guardare i fatti e adesso, in vista delle regionali la Lega potrebbe decidere di prendere le distanze da Fratelli d'Italia oggi all'interno di Fratelli d'Italia vedo persone, tanti ex quindi gente che hanno già girato magari tre o quattro partiti e in più trovo dall'ex democristiano più vicino al centro alla persona di estrema destra che tutti aderiscono allegramente a questo progetto politico allora mi chiedo come fanno a convivere tante anime così diverse all'interno dello stesso contenitore è un contenitore di ideali e contenuti o è un contenitore dove magari qualcuno spera in qualche candidatura in vista delle regionali o qualche assessorato in comune o chissà per quale altra ambizione questo secondo me è una tematica importante a dover affrontare anche all'interno di una maggioranza di centro-destra vi ringraziamo per averci seguito questa era una selezione di alcune tra le principali notizie raccolte per voi dalla redazione arrivederci ben trovati al meteo inizio di settimana con il bel tempo ma con temperature in ulteriore calo sul nostro territorio dove si porteranno lievemente sotto la media del periodo vediamo la situazione nel dettaglio sul Veneto condizioni di stabilità con ampio soleggiamento ovunque e con cielo al massimo poco nuvoloso saranno possibili solamente foschie e addensamenti sulle pianure specie su quelle più meridionali della nostra regione temperature minime ampiamente sotto zero massime fino a 8 gradi inizio di settimana l'insegna della stabilità anche a Vicenza in città ma anche in provincia sarà soleggiato ovunque il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso temperature anche in questo caso in lieve calo dal meteo di Rete Veneta per ora è tutto arrivederci enjoy the moment nuova Renault Clio tua da 199 euro al mese anticipo zero con nuovo motore TCE100 inizia la nuova era anche domenica concessionaria Renault Rigoni Franceschetti a Vicenza e Tiene Grazie a tutti Grazie a tutti.